Si è aperto oggi a Paderma Villaniscemi il Ghana Testing Africa, un evento organizzato dal Ghana Sicily Business Forum che continuerà fino al 7 ottobre a Mazzara del Vallo nell'ambito della manifestazione Blue Sealand. Saranno 4 giorni di incontri, di manifestazioni che vedono protagonisti i rappresentanti delle comunità locali del Ghana e gli imprenditori locali, sia del Ghana che della Sicilia, per avviare scambi commerciali, conoscenze e collaborazioni e per avviare un percorso di cooperazione che porterà allo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura. Siamo al Ghana Sicily Business Forum, di cosa si tratta? È un'occasione di incontro tra la Sicilia e il mondo imprenditoriale siciliano e questa realtà vibrante e crescente del Ghana che è presente qui con dei rappresentanti di due comunità, di due aree, con i loro progetti e con dei partner di progetti già avviati con le controparti siciliane. Un'occasione per avvicinare questi due territori e verificare quali possono essere le occasioni per un reciproco arricchimento. Innanzitutto è un'occasione di conoscenza, cioè la possibilità di mettersi in ascolto e capire quali sono le coordinate verso cui orientare un percorso di cooperazione che sia efficace, che sia effettivo. Molto spesso noi parliamo di cooperazione tra paesi, cooperazione internazionale, ma non c'è un'adeguata conoscenza delle informazioni, dei dati necessari che consentono di arrivare e costruire insieme a quel popolo, a quegli interlocutori, a quegli operatori economici. E questa mancanza di informazioni deve essere superata con incontri come questo, con delle piazze abitate da gente che viene da posti diversi e che prova a confrontarsi su quelli che possono essere temi di comune interesse. Quali saranno i prodotti oggetto del forum? L'attenzione sarà soprattutto centrata sul mondo dell'agricoltura, della trasformazione dei prodotti alimentari. Ci sono due progetti in particolare che verranno presentati nel pomeriggio della giornata dei lavori. Uno che riguarda la trasformazione degli agrumi, un progetto sviluppato da una comunità che ha questa esigenza, che diventa anche una lotta allo spreco alimentare. C'è la materia prima che molto spesso rimane, il grosso della materia prima che rimane inutilizzato e che invece potrebbe essere un potenziale. L'idea è quella di avviare una trasformazione dei prodotti, soprattutto per dare vita a una linea di gelati per il mercato locale. Quindi non sono competitors per la nostra realtà agrumaria, ma sono in ricerca di know-how, di informazioni, di partenariati che consentano di entrare in maniera incisiva nel mercato locale. E l'altro è la realizzazione di un villaggio che dia spazio alla formazione, che dia spazio al training, soprattutto in ambito agricolo. In entrambi i casi, quello che è stato sottolineato dai responsabili della comunità, che sono qui insieme ai loro consulenti, ma ci sono i nanà, i chief, coloro che rappresentano la comunità, è stato quello che loro vogliono contribuire a frenare quella che è l'emigrazione dei loro giovani. Mi hanno evidenziato, dice, noi soffriamo del fatto che ci siano i nostri giovani più brillanti che vanno via. Allora la possibilità di creare delle occasioni di lavoro, delle opportunità nella loro terra diventa strategica. E ritengo che questo sia l'approccio necessario. Accanto a questi due progetti, e quindi i prodotti che all'interno verranno presentati, altre due realtà interessanti. Una che riguarda il Ghana e l'Africa centrale in particolare, come un potenziale mercato anche per le nostre aziende. Sarà presente la responsabile di VinAfrica, che è una fiera internazionale, l'unica del suo genere in Africa, sul vino, che è molto molto curiosa e interessata nei confronti dei vini siciliani. E quindi l'idea è quella di presentare la realtà, la ricca realtà delle nostre aziende, affinché possano contribuire a questo percorso, che è un percorso di scoperta e poi anche un percorso ovviamente culturale. E l'altro riguarda il mondo della moda, a partire dai tessuti originali, dai tessuti tradizionali, che attraverso le connessioni con l'arte, col design siciliano, sta diventando una linea nuova. Questo stesso approccio, cioè partire da un prodotto, da una ricchezza, da una bellezza del paese di origine, e fecondarlo e arricchirlo con l'estero siciliano, lo stiamo anche applicando a un percorso legato al cibo, con particolare riferimento ad alcuni frutti, e attraverso dei maestri gelatieri stiamo ragionando anche qui in una contaminazione positiva che porterà a uno sviluppo ulteriore.